Ciao a tutti, oggi sono qui con mia sorella, che lei non assaggerà niente, si vi ho spoilerato qualcosa penso che non assaggerà niente vi ho spoilerato qualcosa, cioè oggi mangeremo mangeremo tre cose, tutte dolci allora, queste cose sono questa tavoletta di cioccolato, non tutta ovviamente ecco, tavoletta di cioccolato alle nocciole poi no, è cioccolato con le nocciole cioccolato al latte con le nocciole cioccolato al latte con le nocciole questo tic tac che è molto particolare kit kat che è molto particolare perché c'è sotto il cioccolato e sopra il cioccolato bianco e poi un ovetto, kinder e però so già che non è un Minions perché per chi non avesse visto l'altro video video precedente si dice, no? il video precedente aveva aperto un ovetto e era il Minions e quindi oggi apriremo questo che non sarà un Minions però vedremo cosa ci sarà dentro ok, incominciamo dalla cioccolata molto bella mia sorella è la spacchettatore spacchettatrice dentro comunque è fatto così non è tanto particolare assaggiamo assaggio perché lei non vuole assaggiare niente ma non è neanche parlato un pochino oh, avete sentito la voce di mia sorella anche se l'avete sentita in tanti video però quanto ci mette? eh, ha aperto la mince no, 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 non mi sfuggere tutto fallo vedere dietro anche ecco, è fatto così mi sfida da morire quindi andiamo dammi un cubetto va bene, va bene, così e niente e dentro si vedono proprio che ci sono le nocciole mi è caduto un pezzo allora senza senza niente senza le nocciole di cioccolato normalissimo buonissimo veramente buono e gli do un voto un 7 sì, un 7 no un 6 e mezzo non esageriamo allora ora assaggiamo assaggio questo Kit Kat che ora mia sorella ve lo farà vedere aspetta apro io questo la sorella mentre odora sali il cioccolato di Pasqua sali il cioccolato di Pasqua dell'uovo di Pasqua lo puoi sentire? eh sì, è vero ho ragione però sa anche un pochino di carta vedina della carta di di cose vabbè mamma mia quanto è lungo bellissimo vabbè è più lungo dei Kit Kat normali secondo me però vabbè c'è secondo me si vuole vabbè c'è il cioccolato bianco e qua sotto la Nutella il cioccolato al latte ne mangerò un pezzettino uh l'ho diviso vabbè mangerò un pezzettino perché poi devo mangiare altre cose l'odore però sa tipo non è tanto buono non mi piace questo buono buonissimo l'ultimo pezzettino perché te l'ha fatto l'altro vabbè e io ti spaccherò la faccia in questo momento perché è una cosa che odio quando staccano due biscotti per mangiarsene uno buonissimo questo io ti spaccherò la faccia scusa gli do un 8 va bene ora apriamo questo uovo che è cleaner sorpresa e mia sorella siamo a 4 minuti mia sorella guarderà cosa c'è dentro di sorprese poi me lo farà vedere a me ok lo potrei aprire meglio che se no allora vi assaggio un pezzettino anche di questo uovo perfetto oh dio ho sciolto pazienza dammi un pezzettino ok grazie pezzettino di cioccolato kinder assaggiamo dai sofia l'ho buttata nel letto dici qualcosa è più buono il cioccolato vabbè c'è anche un pochino di piedi buono guardate quando li metto dentro ok mia sorella si diverte a fare questo però col sorriso ovviamente allora vediamo che cos'è ragazzi ragazzi sto vedendo già che fa schifo proprio schifo non le scherzo ragazzi c'è questo qua c'è questo in mantide ed è rosso ovviamente perché è il mio colore preferito evviva ragazzi vi sto trovando tutti rossi mi piace troppo il rosso è il mio colore preferito cavolo aspettate un attimo che mia sorella devo andare ad un attimo da fila acqua no perché ci ho messo a toglie io la fila ti ho guardate guardate come ha spezzato male il peccato cioè poteva spezzare tutto questo ma no spezziamole due prendete non potete venire e niente quindi così allora ora vedremo ora vedremo l'ho detto scusate ma dovevo andare ad aprire quindi sì allora dobbiamo mettere non è super chiudo sì non ce ne frega niente allora tanto questi qua se ne mangi lo ho detto se ne mangi no non ora va bene no no va bene va bene ragazzi allora io non capisco come va montato ecco guardate sono un ingegnere veramente un ingegnere te lo metto in figa perché sei sciolto va bene e aspettate ragazzi sono un pochino incapace quindi ci rivedremo alla prossima puntata con Giulia benvenuti che cercherà di aprire un uovo no soffi dai sono incapace sono un incapace soffiato buonissimo comunque ragazzi è veramente una cavolata non va neanche quindi è veramente buonissimo no 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 non l'abbiamo visto è veramente buono no è stato così è un certo qua lo devi mettere dentro eh e questo è lasciato così ecco no no poi qua ti fa vedere che poi esce lui vedi infatti ragazzi allora a questo regalo gli do un 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 sì due perché veramente mi ha deluso cioè non fa niente ce n'era uno che non era dei pupi però almeno faceva lo stampino questo qua non fa veramente niente non so o siamo noi che non l'abbiamo capito no no non fa niente eh guarda è proprio scherzo ma ve lo regaliamo è proprio scherzo e beh sì se lo volete ditecelo che è toccato con le nostre mani sporche di cioccolato e e quindi guardate come ho rincorzato questo ditecelo cioè sembra non allora intanto che tu parli io ci provo vai continua a parlare dopo questo e adesso vi faremo il vero l'album fotografico what continua è un po' è un po' in foto vai falle vedere C'è questa 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 Belli Non fa niente Giulia Non fa un cavolo È per collezionarli tutti A avere nel proprio compito Allora ragazzi Mentre mia sorella fa un pochino la scemina Il video Non si muove più Dai Sofie E niente Guardate che bello È bellissimo Perché c'è Ha azzeccato i miei due colori preferiti Cioè lilla e il rosso E poi È arancione Sapete che faccio la camera di arancione Perché io e un fratello sono andata a casa Con la venice arancione Vi ha detto E se vogliamo arrivare E se noi arriviamo a 30 iscritti Vi farò vedere La sua camera Tutta arancione Farò il room tour Della sua camera E della mia No E niente Se vi è piaciuto questo video Mettete un like Iscrivetevi al canale Condividete questo video E scrivetemi giù nei commenti Se volete che vi saluto E vi saluterò nel prossimo video Iscrivete a Ananas E scrivetevi al suo Instagram Posso farvi sentire una domanda? Come si chiama? Silence-Dakota Silence-Dakota Seguitela Ok posso farvi una domanda? Sì dicono di sì forse Secondo voi? Non sembra che ci sta guardando I cactus No scusate Ho sbagliato Le tartarughe Sono cactus che si muovono Scrivetelo giù nei commenti PS tartarughe cactus E poi ci scrivete se è sì o no E se è no Vi spacchiamo la faccia Comunque Vi spacchiamo la faccia Anche se non vi iscrivete Se non vi mettete un mi piace Se non vi iscrivete Giù nei commenti Mettite a presto questo Io ti porto qui Ciao Ciao Mua 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 Mua